Grazie a tutti. Quando noi, umanamente parlando, diciamo pace, che cosa intendiamo? Intendiamo normalmente l'assenza di preoccupazioni. L'assenza di sofferenza, l'assenza di difficoltà, l'assenza di tutto ciò che poi toglie la pace, ci mette in ansia. E pensiamo che quando queste problematiche, queste sofferenze non sono presenti nella nostra vita, diciamo ecco la pace, Diciamo ecco, ora sono in pace. Questo è un concetto umano, terra-terra di pace. Ma non è il concetto di pace, cui allude di cui parla Gesù nel Vangelo di oggi. Lui, Gesù, comincia così, io vi do la pace. Ma poi dice, io vi do la mia pace. Mir Vam ostavljam, mir Vam svoj dajem. E ci fa capire come la pace che lui ci da la sua pace, non è come quella che pensiamo noi. L'assenza di preoccupazioni, di dolore, di sofferenza è la pace umana. L'assenza di preoccupazioni, di dolore, di sofferenza è la pace umana. Raramente esiste. Ma l'assistica ci dice che questa tipo di pace è molto rilevato. Chi tra noi non ha in questo momento una piccola o grande sofferenza? Chi tra noi in questo momento non ha una piccola o grande sofferenza? T'ko među nama u ovom trenutku nema malu ili veliku neku zabrinutost? Penso che tra noi nessuno potrebbe dire io adesso sono in pace in questo modo terreno. Mislim da nitko među nama ne bi mogao sada reći ja sam u miru na ovakav zemaljski način. E allora c'è un'altra pace. E' proprio quella che ci dà Gesù. E solo Lui ce la può dare quella pace. E' una pace che esiste profondamente nel nostro cuore. Anche quando ci sono le preoccupazioni e i problemi della vita. Perché la sofferenza umana se noi la viviamo da soli ci toglie la pace, ci toglie la serenità. Ma se noi viviamo le preoccupazioni, i dolori, la sofferenza della vita insieme con Gesù. Allora è Lui che porta insieme a noi la nostra croce. E da questa consapevolezza di non essere soli nella sofferenza ma insieme con Gesù che scaturisce la vera pace. E questa pace è più grande, più miracolosa di quella umana che è assenza di preoccupazioni e di sofferenze. Come è possibile essere umanamente parlando nella sofferenza e nel dolore eppure sentire questa pace e questa serenità profonda nel cuore. C'è possibile. C'è possibile perché c'è Gesù con noi. Ecco allora, nel momento della prova, nel momento della sofferenza, noi dobbiamo guardare a Gesù crocifisso. dobbiamo guardare a Gesù durante la sua passione, quando porta la sua croce. Trebiamo guardare a Gesù crocifisso. Quella croce che non è soltanto la croce di Gesù. Ma è anche la nostra croce nella sua croce, nella croce di Gesù. E' anche la nostra croce nella sua croce di Gesù. E' anche la nostra croce nella sua croce di Gesù. Ecco allora, che se abbiamo fede, non abbiamo paura, non dobbiamo meglio avere paura di nulla di ciò che accade e di sgradovo nella nostra vita. E' come di vita in realtà, non dobbiamo essere bocciati, ne sarebbe potuto essere bocciati, più dicendo, per qualcosa di necessità che si può arrivare in nostro vita. E' ora uno delle ragioni che ci toglie la pace è questa pandemia in cui ci troviamo. Siamo preoccupati per noi stessi, per i nostri cari ci allarmano le notizie che vengono dalla stampa, dalla televisione e allora ecco il momento di risvegliare la nostra fede non siamo soli non dobbiamo dire ma allora in questa situazione è così difficile dove è Dio? Non dobbiamo dire così dobbiamo invece dire ecco in questa situazione di sofferenza Dio si manifesta ed è presente ancora di più che se non ce l'avessimo questo però non toglie che noi nella preghiera possiamo chiedere al Signore di liberarci dai dolori, dalle sofferenze e anche da questa pandemia Noi oggi siamo venuti qui abbiamo cominciato con il rosario proprio per chiedere al Signore che liberi il mondo da questa situazione Continuiamo a pregare in questa Eucharistia per questa stessa intenzione e la nostra implorazione sale al Signore in questo luogo Mariano Possiamo chiedere anche accoratamente l'intercessione di Maria la Regina della pace affinché pregi interceda presso il suo figlio in nostro favore Amen Mociamo i žarko moliti Mariju, Kraljicu Mira, da zagovara kod svoga Sina da nam pomogne u ovoj situaciji Amen Grazie a tutti